Regione Toscana, il Consiglio regionale. A fine giugno si è insediato il nuovo Consiglio di amministrazione del Corecom Toscana che ha eletto Marco Meacci presidente. Il Consiglio regionale, pochi giorni prima dell'insediamento del nuovo Consiglio di amministrazione, ha approvato nell'ultima seduta dell'Aula la relazione dell'attività 2022 con 24 voti favorevoli e 6 astenuti. Tra le attività principali sono stati ricordati il lavoro nei confronti dei minori, a partire dal patentino digitale e le iniziative a far fronte al bullismo nelle scuole. Sì, abbiamo approvato in Aula la proposta di risoluzione che apprezza e approva il resoconto delle attività 2022 del Corecom e devo dire che si conferma essere un organismo di grandissima rilevanza non soltanto per le attività che gli sono delegate dal governo ma anche e soprattutto per le attività proprie di promozione di una comunicazione sana e di un rapporto con i mezzi di comunicazione e di informazione maturo e critico soprattutto per i toscani e le toscane più giovani. Il progetto del patentino digitale è un progetto di punta nell'ambito dell'attenzione per i minori e la Commissione ha chiesto e chiede ancora che venga esteso a tutte le scuole toscane e a tutti i ragazzi e le ragazze toscane come opportunità di entrare nel mondo dell'uso dei social e dei mezzi di informazione in modo più maturo con più strumenti di comprensione. Un'altra delle osservazioni che la Commissione ha portato anche in aula è stata quella relativa alla diffusione e promozione della conoscenza del Corecom e delle sue attività. Sappiamo che per chi incrocia le attività di questo organo la soddisfazione è sempre garantita. Quest'anno grazie a un 25% in meno di istanze per quanto riguarda le attività delegate il Corecom ha potuto anche avere un'attenzione maggiore e una maggiore celerità nello svolgimento delle pratiche ma ci piacerebbe che molti più toscani e toscane avessero consapevolezza di che cosa fa il Corecom di che cos'è e di quanto è importante per l'informazione e la comunicazione nel nostro territorio. Il Corecom è uno degli enti di fatto di garanzia che svolge un lavoro molto positivo, lo deve svolgere essenzialmente gli abbiamo chiesto di farlo nei confronti anche delle nuove generazioni, nei confronti dei ragazzi, nei confronti di tante persone che hanno dei rapporti anche innovativi rispetto al mondo dell'informazione e della comunicazione e quindi c'è stato un nostro sostegno positivo all'attività svolta che conclude un ciclo. Serve anche attuare laddove possibile su nostre indicazioni un po' di maggiore toleranza nei confronti del sistema televisivo. Abbiamo visto in alcuni casi anche molti elementi di rigidità rispetto anche a elementi di carattere sanzanatorio, rispetto a dinamiche anche nazionali e locali, credo che molte volte l'impresa privata che fa anche comunicazione, che fa televisione necessita anche di una forma di dialogo e di tolleranza rispetto a un'attività che comunque è fondamentale rispetto al principio dell'informazione ma che molte volte si espone a dei rischi per l'attività stessa che svolge. Ma è una partita che viene da lontano, una partita che forse ha avuto una gestazione molto lunga questi sei mesi ma che forse aveva già di per sé trovato un equilibrio, lo definisco così, nel riassetto di maggioranza che si sviluppò tra novembre e dicembre. Molto critiche le opposizioni che hanno evidenziato come il Consiglio di Amministrazione del Coricom era scaduto già da oltre sette mesi e questo organo di garanzia per i cittadini è poco conosciuto dalla popolazione mentre svolge una funzione importante che dovrebbe essere maggiormente diffusa. Tengo a precisare che cosa vuol dire Coricom perché la maggior parte dei cittadini non lo sa Comitato regionale per le comunicazioni che non si occupa solo di comunicazione ma si occupa anche di altre questioni a me piacerebbe che la maggior parte dei cittadini toscani sapessero che il Coricom risolve le controversie con i gestori telefonici e le risolve gratuitamente. Quindi bisogna trovare il modo di far conoscere questa, chiamiamola, agenzia alla maggior parte delle persone e insieme a questo anche i vari garanti, il garante per l'infanzia, il difensore civico perché non sono molto conosciuti. Comunque su questo ci sto lavorando. Per quanto riguarda la proposta di risoluzione noi ci siamo astenuti perché sì il Coricom sta lavorando abbastanza bene per quanto riguarda i minori con il discorso del patentino digitale però per ora sono poche le scuole in cui è stato proposto. Noi vorremmo che fosse proposto in tutte le scuole della Toscana e inoltre perché sette mesi ci sono sembrati veramente troppi per aspettare la nomina del nuovo CdA e del Presidente. Siamo critici sul risardo ma è perfettamente in linea su come Gianni e questa maggioranza sta governando la Regione Toscana. Qua c'è la corsa folle alle nomine c'è la corsa folle a distribuire poltrone e incarichi nei vari consigli di amministrazione poi una volta distribuite le poltrone abbiamo fatto, finito, chiuso. Poi poco importa se l'ente nominato parte, che risultati porta, che obiettivi centra. Il Coricom è l'esempio lampante. Abbiamo nominato il nuovo vertice del Coricom mi sembra a novembre dell'anno scorso, siamo a giugno, il Presidente l'abbiamo letto sui giornali, perché ancora non sappiamo se si è insediato o meno, scelto da una settimana circa. Quindi questo dimostra cosa? Dimostra che questa giunta è tranquillamente in grado di tenere sette mesi fermo un ente come il Coricom, un ente di garanzia per i cittadini, per le comunicazioni. Può stare tranquillamente sette mesi fermo. L'importante è aver nominato chi siede nel CDA. Poi se lavora, se non lavora. Ma come il Coricom potremo fare altre decine di sempre. Il Presidente del Consiglio regionale ha partecipato questa settimana alla 156esima sessione plenaria del Comitato Europeo delle Regioni a Bruxelles. Sul tavolo di lavoro due atti su qualità dell'aria e industria green. Il primo documento che ha visto il lavoro proprio di Regione Toscana è finalizzato alla riduzione delle emissioni per migliorare nei territori il livello di vita dei cittadini. Un altro parere approvato è stato quello sul NIT Zero Industry, la strategia europea per l'industria a emissioni zero. Anche in questo caso un confronto a livello europeo per l'obiettivo del Comitato delle Regioni, che è quello di orientare l'industria verso modelli green, con processi produttivi attenti allo sviluppo sostenibile. Oggi abbiamo affrontato due questioni fondamentali per la vita dei cittadini. La prima è quella della qualità dell'aria. Come noi possiamo offrire alle cittadine e ai cittadini dei nostri territori un livello di vita migliore. Quali sono gli investimenti da fare? Qual è la direzione da intraprendere? E soprattutto come noi dobbiamo investire in tecnologie che consentono di ridurre le emissioni. E anche il secondo atto va in questa direzione. La direzione di dare risposte affinché nascano imprese green, non le imprese che inquinano tanto come sta avvenendo fino ad ora. Tutto questo deve avvenire non ricadendo sulle spalle dei cittadini, con costi che devono sostenere soprattutto le persone che soffrono di più. Oggi entrando in aula ho avuto modo di passare nella galleria dei presidenti e di vedere l'immagine di David Sassoli, un grande uomo delle istituzioni, che ci ha mandato un messaggio semplice, avvicinare con le sue parole il modo di lavorare l'Europa ai cittadini e che è riuscito a lavorare nella direzione di cambiare un po' la cultura anche all'interno del Parlamento europeo e di portare tutti nella riduzione di investimenti per ridurre le disuguaglianze. Ecco, tutto questo deve tenersi insieme, tutta questa è la nostra idea d'Europa. È stato molto importante confrontarsi con gli stakeholder che operano in Europa perché una concorrenza effettiva consente alle imprese di competere in condizioni di parità in tutti gli Stati membri, incentivandole al tempo stesso a sforzarsi costantemente di offrire il prodotto migliore, i servizi migliori al miglior prezzo possibile, il che a sua volta guida l'innovazione, guida il cambiamento, ma anche la crescita economica a lungo termine. Questo è un tema importante che sembra lontano da un cittadino, ma che in realtà tocca la vita di ciascuno di noi. In questo momento però alcune regole sugli aiuti di Stato hanno causato degli squilibri, mettendo a rischio la coesione territoriale, perché alcuni Stati possono garantire una quantità di aiuti ben maggiore, avendo leva fiscale e avvantaggiando le proprie aziende nazionali nel mercato unico. E questo non è giusto. Allora il parere va esattamente nella direzione di cercare un riequilibrio. Ecco, grazie agli stakeholder ho colto tutta una serie di spunti che metteremo a disposizione del lavoro che stiamo portando avanti al Comitato delle Regioni, con un obiettivo offrire ai cittadini italiani, offrire ai cittadini toscani servizi migliori, ad un prezzo migliore. Il bilancio previsionale 2003-2025 dell'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario della Toscana è stato approvato nell'ultima seduta del Consiglio regionale. L'atto è passato a maggioranza, con 22 voti a favore, 10 contrari ed un astenuto. Nel corso dell'illustrazione del documento in aula è stato evidenziato dalla Presidente di Commissione, Cristina Giacchi, il problema dell'aumento dei costi dovuto all'inflazione, giunta all'8%. Il Consiglio ha approvato quindi un emendamento, votato questa volta da tutte le forze politiche, per impegnare la Giunta a trovare nuove risorse per garantire tutti i servizi agli studenti nei prossimi anni. Importante le risorse che vengono messe a disposizione dal sistema toscano nelle confronti di tutti quegli studenti che hanno un merito per poter avere degli contributi alla loro attività. Nello stesso tempo serve sostenere coloro che non riescono con le proprie risorse finanziarie ovviamente a fare gli studi universitari e nel contempo cercare di sostenere anche le strutture e gli impianti del sistema universitario rispetto agli alloggi e non solo, rispetto anche al sistema delle menze. Quindi un bilancio che si approva, è un bilancio che darà sostegno agli investimenti non soltanto infrastrutturali ma soprattutto anche per tutti quegli interventi che devono essere sistemati a livello locale. Abbiamo approvato il bilancio di previsione 23-25 dell'azienda per il diritto allo studio, tema molto delicato, azienda che impegna un bilancio di 120 milioni e ha competenze ben definite dallo Stato che gliele delega. Spesso c'è un equivoco e si pensa che il diritto allo studio riguardi tutti gli studenti presenti sul nostro territorio. In realtà questo avviene indirettamente solo per la gestione delle menze, mentre la competenza principale dell'azienda per il diritto allo studio riguarda gli studenti meritevoli con fragilità di reddito. Da questo punto di vista devo dire che la Toscana si conferma prima in Italia perché corrisponde tutte le borse di studio richieste dagli studenti, cioè tutti gli aventi diritto in Toscana trovano accoglienza nelle borse di studio e quindi nessuno rimane escluso e questo è un grande risultato che nessun'altra regione o poche altre regioni raggiungono e non sempre, noi invece stabilmente da sempre corrispondiamo alle attese degli studenti. Tema delicatissimo è il tema degli alloggi, molti degli alloggi del diritto allo studio toscano, che sono circa 4.800, sono al momento impediti dalla necessità di adeguamenti antincendio. Abbiamo sollecitato questi lavori e l'azienda è impegnatissima perché una volta sistemate queste residenze davvero non avremo bisogno di altro e gli alloggi del diritto allo studio saranno sufficienti a coprire il fabbisogno. I bilanci hanno sempre un po' di problemi dovuti a varie questioni, direi minor numero di posti letto e costo dei posti letto fuori controllo, oltre anche alla diminuzione dei pasti diretti. Queste sono alcune delle criticità che sono state anche evidenziate dagli uffici della Giunta. Quindi noi che diciamo? Diciamo che bisogna in qualche modo diminuire il costo del personale, cioè diminuire, perlomeno che non si alzi più il costo del personale, poi mettere le residenze che stanno, diciamo, per essere ristrutturate che i lavori terminino nel più breve tempo possibile, così il numero dei posti letto aumenta e c'è per tutti, quindi anche i costi diminuiscono. E poi spendono troppo per quanto riguarda, va bene, l'energia e quello è stato un periodo che forse ora si risolve, però per la portineria e le pulizie devono trovare il modo di spendere meno. Probabilmente dovranno fare una gestione diversa e su questo spero che mi diano ascolto. Il bilancio noi abbiamo votato contro e abbiamo anche presentato una proposta di risoluzione affinché, viste tutte le criticità, i controlli sui lavori che porta avanti Arzu siano fatti più frequentemente. In particolare abbiamo chiesto che il Presidente e la Giunta controllino e facciano passare dalla Quinta Commissione il risultato di questi controlli.